Occorrerà attendere la relazione dei militari del IV Regimento Eugenio Guastatori di Palermo per capire la fattibilità e sostenibilità del ponte Beili sulle sponde del fiume Magazzolo per collegare le località di Secca Grande e Borgo Bonsignore. L'alluvione dello scorso mese di novembre ha distrutto il ponticello e da allora si cerca una soluzione. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvola richieste di ottenuto un sopralluogo nella zona da parte dei militari del Regimento Eugenio Guastatori che si è svolto ieri alla presenza dell'amministrazione e dei tecnici comunali. Si attende adesso la relazione di fattibilità e sostenibilità dell'opera per decidere quale strada seguire, quella del ponte Beili oppure la realizzazione di un nuovo ponticello che richiederebbe un progetto e l'ottenimento dei fondi necessari. Anche nel caso di ricorso dal ponte Beili il comune di Ribera dovrebbe comunque realizzare i piloni di sostegno sulle due sponde del fiume. Quello di ieri è stato dunque un sopralluogo finalizzato a capire fattibilità e costi dell'opera da parte del genio Guastatori di Palermo. Ogni decisione sull'intervento d'attuare per ripristinare il collegamento tra Secca Grande e Borgo Bonsignore verrà assunto dall'amministrazione comunale dopo aver acquisito la relazione.